Vai Pippo andiamo, vai! Porca puttana che pioggia! Sono venuta a lavoro con il mio squarna 600 e mi sono bagnata tutta. Cazzo me ne frega! Chi devo presentare? Devi presentare Affari Buoi con Amadeus. Ok, va ora in onda una nuova puntata di Affari Buoi con Amadeus. Buona visione con i programmi di Vai 1. Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani. Affari Buoi! Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente. Buongiorno! Buongiorno, chi è? Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Sta parlando con Amadeus. Che cosa vuole? Lei è il signore o la signora? Ma lei non c'è interessa, lei dica che cosa vuole. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Almeno me ne può fregare di meno. Perché a me mi tocca lavorare, non i giochi dei pacchi, a fare i tuoi cattivari. Quindi non compro niente, non gioco a niente, non me ne può fregare di meno. Quindi con me non attacca. Chiudete la linea a quest'ignorante e facciamo l'applauso. La situazione è sempre più drastica. Aumentano sempre di più le persone ignoranti che girano la testa alla fortuna quando gli si propone davanti. Poi sono dal tabaccaio ad indebitarsi con i gratta e vinci. Io proprio non li capisco. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente. Pronto? Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Lei è il signore o la signora? Va, che merda di gente che c'è in giro. Pronto? Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus. Chi è Amadeus? Ma come cazzo fa a non conoscere il programma televisivo più visto di tutti i tempi? Dai, sbattiamoci nelle palle e chiamiamo un altro concorrente. Pronto? Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora? Ma con chi è che parlo? Sono Amadeus. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Ma sì, ma mi non mi interessa anche tu. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti? Sì. Niente. Brutta testa di cazzo. Dai, non perdiamo altro tempo e andiamo con la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Abbia pazienza. Sta parlando con Amadeus. Non capisco bene. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Guardi, senta, ho i peperoni sul fuoco. E passo mio marito. Arnaldo? Aia. No. C'è la voglia, Arnaldo. Cosa fai? Michele! Subito! Subito! Michele, sei ancora tu! E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa, Tombini. Bastardo figlio di puttana! E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso. Tu sei un grandissimo figlio di puttana! Io le farò una domanda. Non me ne frega un cazzo! Io le farò una domanda. E se lei mi darà la risposta... Sono stufo, Michele! Tu non puoi ossessionarmi così! Io le farò una domanda. Tutti i santi giorni! Lo vuoi capire? Ti chiedo per favore, dimenticami! Quindi siamo pronti? No! Andiamo con la domanda. Nessuna domanda! Michele, chiudi sto cazzo di telefono! Facciamo scendere il tabellone. Michele! Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa. Michele! E anche perché la stiamo registrando ora, la puntata che andrà in onda questa sera su Vai Una. sono due mesi che mi stai rompendo i coglioni! Allora, mi deve dire, quanti denti ha in bocca Ornella Vanoni? Via col tempo! Ha in bocca tre porca... Ha due minuti per rispondere. Michele, ho già le mani sul volante! Ci pensi molto bene! Michele, ho appena finito una fioccina di legno! Non farmela usare! Hai capito? Non farmela usare! Ma questa cosa è incredibile! Ho saputo dal mio amico vigile che sei stato già arrestato per aver rubato nel negozio di elettrodomestici un asciugacpelli! Ma ci rendiamo conto quanto sei stronzo! La risposta è... La risposta è porca... Esatta! Ha vinto! 300.000 euro! Ma dove cazzo le hai messe le chiavi della macchina? È contento che ha vinto tutti questi soldi? Ma c***o è pestata! Non le trovo! Ma perché ha preso la mia macchina? Doveva uscire con Michele! Porca m***a! Incredibile! Affari tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su dai uno buona serata! No vabbè! La mia famiglia è! Che f***a è la f***a!